Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua di nuovo insieme per un altro fantastico video Oggi interrompiamo la rubrica che ho tenuto fino a ieri dei Cruiser TR-10 Per farvi vedere un po' come giocarli e ora riprendiamo i normali gameplay ragazzi Oggi vi volevo portare una nave che è stata ritenuta non adatta E diciamo una nave for fun ed è la Grasper ragazzi Allora io con questa nave devo essere sincero non mi trovo male, mi piace, è divertente da giocare Certo ha i suoi difetti e cioè un ratio di fuoco troppo lento per un normale, per un Cruiser E questo è vero, però è anche vero che il volume di danno che voi riuscite a fare con questa nave È pari ad una corazzata verso i Cruiser Quindi secondo me magari con l'unione di Adrenaline Rush comunque è una nave che fa la differenza A mio avviso Io vi posso dire che questa nave è molto... riesce a impostare il gioco in maniera molto più... Come spiegarvi... Siete abbastanza eclettici nel gioco perché avete dei siluri a 8 km e mezzo Vi permettono di caricare una battleship E questo per un Cruiser è importante Il vero problema di questa nave secondo me è il fatto di essere matchata con i tier 8 Una volta ragazzi, se siete un po' più veterani del gioco Vi ricorderete che una volta era veramente raro stare in un... essere un tier 6 e si scontra con un tier 8 Una volta un tier 6 massimo si poteva scontrare con dei tier 7 massimo Oppure potevate trovare nel matchmaking un tier 4, un tier 5 Era molto più bilanciato il gioco nei tier Chiaramente ora la VG invece ha aperto i cancelli delle gabbie E quindi è un po' un problema per un tier 6 poter fare una partita valida in un matchmaking di tier 8 Questo è chiaro Però il vostro ruolo secondo me di questa nave è dare la caccia ai Cruiser E con questa nave ci riuscite Questa nave è veramente cattiva per andare ad affrontare i... i Cruiser La sua antiaerea non è niente di speciale Infatti dovete attivarvi... dovete attivarvi il vostro consumabile per poter avere un effetto valido Ma neanche con l'inconsumabile attivo fate chissà che... che antiaerea è efficace Però già col consumabile Ah vediamo c'è un... un Fubuki Allora ragazzi ho preso il vostro consiglio di abbassare un po' le specifiche grafiche del gioco Per vedere se si riesce comunque sia a... a giocare E vedo che un po' il rallentamento è diminuito effettivamente Strano perché comunque ho una scheda video di tutto rispetto Però comunque... sembra che abbiamo un po' risolto Quindi vi ringrazio per il... per il... per l'aiuto Ah e ne approfitto per salutare l'amico Alex Se non ricordo male che mi ha chiesto se lo salutavo nel video Quindi ciao Allora dicevamo... è una nave che riesce a fare il suo ruolo È quello di... di combattere i cruiser ragazzi Eh... la sua forza è proprio quella Riuscire... eh... a far molto male ai cruiser come una corazzata Però con un volume di fuoco doppio Perché comunque sia... voi sparate ogni... ogni... 17 secondi se non ricordo male Però con l'adrenalina di raccio e tutto Riuscite a sparare entro... ogni 14... 13 secondi mi sembra E quindi... al... cioè quando perdete vita chiaramente Quindi comunque avete un buon volume di fuoco Oddio... certo ci sono cruiser migliori di voi Questo è chiaro Però questa è una nave... eh... che ha come... eh... suo ruolo proprio questo Combattere... eh... i cruiser Secondo me E quindi... il vostro ruolo è questo Quindi... non andate a... a sparare H.E.A. le corazzate O a... o cercare di cittadellare le corazzate Perché... è molto complicato È molto complicato che voi ci riusciate a fare ragazzi Che voi ci riuscite È molto meglio Invece... e... In po... vabbè io ora... eh... Vedete quanto fatto male a questo... A questo... a questo... a questo nevole ragazzi L'ha sentita ragazzi Perché? Perché il calibro è molto piccolo di questi cannoni E quindi è più facile che riusciate a penetrare Gli scafi dei... dei crew... dei... dei DD ragazzi E questo è un altro grosso vantaggio di questa nave Eh... come ammazza DD riesce... riesce abbastanza bene Certo... eh... non è il vostro ruolo ammazzare DD Quindi... non evitiamo di sparare i siluri Ok... vediamo se questo lander lo riusciamo a svegliare ragazzi Ah... peccato Il colpo non è andato benissimo Come speravamo Abbiamo... loro hanno già perso 3... 3 DD Quindi per noi ottimo ragazzi Loro sembrerebbe che si stiano spostando tutti verso C Vi ricordate ragazzi che c'eravamo retti Ah beh... che c'eravamo retti Evitate sempre in battaglia di andare tutti quanti in un unico cap Perché dopo diventa difficile riuscire a uscire da... da una situazione del genere Allora... selezioniamo i bombardieri E vi faccio vedere come alla fine Non riescono le... 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 eh... l'antiaerea a essere molto efficace ragazzi Vedete... con il consumabile attivo È anche vero che ancora non ho... eh... le skill del capitano eh Voglio vedere con le skill del capitano alzate... attive Se riusciamo ad essere più efficaci Però comunque sia... eh... è un esempio Vi faccio vedere che era appunto un esempio di come questa antiaerea non è eccezionale Allora abbiamo una Bismarck in allontanamento E di qua abbiamo una Tirpitz che ci sta attaccando Abbiamo le secondarie della Bismarck Ma penso che tra poco perderanno di efficacia Infatti evitiamo di avvicinarci troppo alla... Alla... alle secondarie della Bismarck Teoricamente non dovremo più subire l'attacco Ci dovrebbe avere a 10 e 4 se non ricordo male Quindi tra poco si dovrebbero spengere Allora è chiaro ragazzi In un matchmaking di tier... di tier 8 Io posso raccontare... posso dire poco Posso veramente dire poco Però... mh... cerchiamo di dare il nostro peso in battaglia E cerchiamo di aiutare il team Questo è importante Abbiamo una... la Polaranger completamente fuori posizione Ragazzi Vediamo se riusciamo a dirle quel qualcosa in più Ok... 3000 danni Niente di speciale Il colpo era un po' sporco ragazzi Quindi ci può anche stare Il vantaggio di questa nave è anche il poter sparare con una buona angolazione E usare tutti e due i cannoni Quindi è difficile che vi cittadellino Anche perché comunque ha una buona armatura Certo Contro i cannoni di una... abbiamo cittadellato la Ranger Ottimo Certo Contro i cannoni di una corazzata tier 8 Comunque vi chiappano Fanno malissimo ragazzi E' lì il vero problema di questa nave Perché altrimenti Sarebbe una nave che riesce molto bene A... a tankare anche Abbiamo fatto altri 9000 danni Ottimo 3 penetrazioni La Ranger sta andando giù Ehm... Ce la... tiene spottata il DD Quindi per noi Perfetto Vediamo se riusciamo a toglierci la... La Porteri Sarebbe una bella botta al team avversario Altri 5000 danni Ehm... non è eccezionale Però dai Piano piano ragazzi La mandiamo giù come un sasso Allora Vediamo un po' Se riusciamo E' un tiro un po' difficile ragazzi Vediamo un po' Se riusciamo A fermare la Ranger Eh gli abbiamo rifatto di nuovo 5000 danni Peccato E' un tiro sporco ragazzi Quindi è difficile Ehm... Difficile essere veramente incisivi Vediamo se ci riusciamo Tiro molto angolato Forse riusciamo a chiuderla eh Forse la chiudiamo Ah si ragazzi Chiusa Ottimo Ci siamo portati via La Porteri Non male Non male Per un tier 6 In una partita di tier 8 Va bene ragazzi Stiamo facendo il nostro Perlomeno Abbiamo dato il nostro contributo Con queste due kill Allora Ora ci riportiamo dentro il cup di B Perché comunque sia da quest'altra parte Non ci sono avversari Eh... no Vi dicevo ecco Secondo me Lo scopo di questa nave E' andare a A contrastare i cruiser Se voi riuscite Perché con questa nave Fate molto male ai cruiser Ragazzi E quindi siete un aiuto in più Per le corazzate Perché Non so se lo sapete Ma di norma Come corazzata Il vostro primo obiettivo Dovrebbe essere quello Di andare a distruggere i cruiser Solo dopo Concentrarvi Sulle corazzate Avversarie E questo cruiser Riesce a fare proprio bene Il suo lavoro E cioè andare ad attaccare I cruiser avversari E fare in modo Di abbatterli Ecco Eh... certo In una futura Ranked Di tier 6 Eh... forse Non è la nave adatta Perché Eh... uno Eh... Ci sono... Il suo ratio di fuoco Effettivamente In una ranked Potrebbe non essere Eccezionale Però Eh... Diventereste Una corazzata Appunto Tascabile Eh... però Con il vostro scopo Proprio quello Di andare a rannigliare i cruiser Certo In un matchmaking tier 6 Dove vi mette Due cruiser Quattro corazzate E cioè no scusate Tre corazzate Un cruiser E due DD Diventa difficile Per voi essere incisivi Ok? In una In una fantomatica ranked Però In... vedete In una partita random Come questa Vedete Ho fatto Non ho fatto danni alla Bismarck Praticamente Ed è stato un colpo pieno Però vabbè Ragazzi ci può stare E... Dicevo Eh... In una random Come questa Riuscite a essere più incisivi Secondo me Potete fare la differenza In battaglia Ed è... Ho... Ho fatto una partita Mi sembra da 90.000 D'anni Con... Con il... Ho preso il cracker Ragazzi Con questa nave Per carità Certo È più facile Trovare partite Dove non riuscite A essere incisivi Però Eh... Giocata bene Con intelligenza E Cercando di Andare a A focussare Pesantemente I... I cruiser Questa è una nave Che dice la sua Vedete Di nuovo 1500 danni a un abismo Per questo È un tierotto ragazzi Noi facciamo niente Per questo È sempre meglio Evitare Di andare A scontrarsi Allora abbiamo qui Vediamo È riparte Mi sa Non lo chiappiamo Forse Eh... Ah Eh vabbè Ci è andata male Io abbiamo fatto Una vera penetrazione Però comunque L'hanno chiuso Ma io sì Eh... Quello Ecco Quello che vi dicevo Non è la nave Che chiaramente Può rivaleggiare Con un tierotto Però In matchmaking Di tier 6 Dice la sua Ragazzi È una nave Che sicuramente Fa la differenza In battaglia Proprio perché Vi potete andare A concentrare Come vi dicevo Su cruiser Ah vediamo Questa tierpiz Che ci si avvicina Vediamo Se riusciamo A essere incisivi Allora Eh Eh 4000 danni Vabbè ragazzi Per essere Un tierotto E non un tier 6 Ce lo accettiamo Ecco Allora Vediamo un po' Questa Bismarck Però La Bismarck È dietro l'isola Riconcentriamoci Sulla tierpiz Allora Vediamo un po' Di sparare Alla tierpiz Vediamo Se riusciamo A farle un po' male Una penetrazione Basta E vabbè ragazzi Comunque Abbiamo fatto Un migliaio di danni Abbiamo fatti Un 2000 1000 2000 danni Allora Avviciniamoci A questo punto Alla Bismarck Beh la Bismarck Sta per Essere Annichilita Proviamo a Ninjarla Ragazzi Che dite Ci proviamo A ninjarla Vediamo Se facciamo In tempo Vediamo Se riusciamo A ninjarci No Peccato Non ci siamo Ninjati La Bismarck Peccato Ragazzi Chiaro Come vedete Io ho fatto Il mio In questa partita Non potevo fare Di più Perché Perché sono tierotto Ragazzi Quindi voi qui Siete solo Dei comprimari Dovete cercare Di dare il vostro Appoggio Contributo Io ho fatto Due kill Importanti Ho killato La portere E ho killato Un DD Che in una partita Del genere Fa la differenza E soprattutto Quando vai Ad eliminare La portere Da un grande Buff A tutta Da un grande Buff Appunto A tutto Il gruppo Sostanzialmente È chiaro Non è che si può fare Poi così tanto Con questa nave Visto il matchmaking Magari Più avanti Se mi capita Vi porto anche Qualche gameplay Dove magari È più bilanciato Con Con i tier 6 E lì Vi farò vedere La vera forza Effettiva Di questa nave Ci siamo rubati Un'annigiatina Alla Bismarck Ragazzi Almeno 3 kill Ce le siamo portate A casa Ho caricato Gli H.I. Apposta Per poter fare Perlomeno Un po' più di danno È chiaro ragazzi Se siete contro Una corazzata Ti è rotto Che non vi dà il fianco È meglio usare Le H.I. Ragazzi Questo è chiaro Anche perché qui Tutte le corazzate Sono rimaste solo Corazzate Non aveva senso Andare a usare Ancora i perforanti Usatevi i perforanti Per i cruiser Sostanzialmente Eccoci qua ragazzi Allora Come vi dicevo È una nave Che Io qui sono arrivato Ora perché non ho più Lo screenshot Ma sono arrivato Secondo Con 1850 Di esperienza Ragazzi Per essere una partita Con i tier 9 8 Beh Non mi lamento Va benissimo Sono contento Della partita Abbiamo portato a casa 3 kill Abbiamo fatto Quei 60.000 danni Ragazzi In una partita del genere Di più Non si poteva fare Ci sono partite Anche Migliori Con i tier 6 Riuscite a essere Molto più incisivi Quindi per questo Dico Molti l'hanno un po' Blasonata come nave A me piace giocarla Se La giocate Con il suo scopo Il suo scopo Non è quello Di cittadellare Le corazzate O Di andare A dare la caccia Ai DD Il suo scopo È di dare la caccia Ai cruiser E quando sparate A un cruiser Lo demolite Con questa nave Ragazzi Per questo Vedete Se riuscite Magari A provarla Per chi ce l'ha O per chi la comprerà Perché magari Si era perso L'evento Di qualche mese fa Di natale Se riuscite A usarla Vedrete che Chiaro Non è una nave Strong Non è una nave Non è una premium forte Però È un po' come la Dunkirk È una nave Se giocata Bene Con le sue Sfruttando appieno Le sue potenzialità Riuscite a tirarci fuori Delle belle partite Certo Però è proprio per questo Giocarla E riuscire a tirar fuori Delle belle partite Dà molta più soddisfazione Con questa nave Perché Vi sentite Ah cavolo Ho fatto 80-90 mila danni Con la Graspè Cavolo Grande partita Perché Perché è una nave Non poi così OP Rispetto ad altre Navi premium Ok ragazzi Spero che vi siate divertiti Mettete un bel mi piace E aiutatemi a crescere Come canale E noi ci vediamo La prossima volta Ciao a tutti